Il primo tempo eravamo un po' troppo contratti, credo un po' troppa paura che almeno quando giochiamo in casa non ci deve essere, bisogna sempre cercare di essere propositivi, creare gioco almeno in casa, quando le squadre ce lo concedono e oggi il primo tempo non è stato così, abbiamo faticato a trovare gli spazi, a trovare la velocità delle giocate, per fortuna che poi il secondo tempo siamo riusciti a sbloccarla. Sì, ripeto, come è capitato parecchie volte quest'anno, proviamo tanti schemi su calci piazzati, dedichiamo molto parte del nostro lavoro settimanale in questi, sappiamo che siamo forti e dobbiamo cercare di sfruttarli al massimo. Sì, bene, ma credo che dobbiamo pensare al nostro, che c'è ancora tanto da lavorare, c'è da dare continuità, poi quello che riusciremo a fare faremo alla fine. Grazie a voi. Il gol che l'ha fatto del Fondi è stato un altro gol? Credo di sì, credo di sì, ma dobbiamo ancora rivederlo, infatti ci chiedevamo in spogliatoio cosa fosse stato, quindi lo rivedremo in settimana. Sì, abbiamo avuto qualche difficoltà nel primo tempo, poi abbiamo cambiato qualcosa anche a livello tattico e nel secondo tempo abbiamo fatto decisamente meglio. Peccato per il gol e peccato per il giallo, sì. Sì, è vero, è un periodo che abbiamo delle partenze, diciamo, false e iniziamo la gara in maniera poco positiva. Nel fine primo tempo ci siamo parlati, abbiamo parlato col mister, abbiamo cercato di analizzare le cose che non andavano e nel secondo tempo è andata decisamente meglio. Per una squadra che ambisce a far bene, ambisce sempre a vincere, sono tutti fondamentali, chi inizia e chi entra dalla panchina. I due questi compagni continuano a vincere, Lecce vince da zero da Grigento, ma il Trapani è lì. Sì, sì, noi guardiamo a noi stessi, abbiamo l'obiettivo di vincere tutte da qui alla fine, ci proveremo e ce la metteremo tutta sicuramente e poi rialzare la testa a maggio e vedere dove siamo. Sì, è una partita difficile, Catanzaro è un'ottima squadra, ma in questo campionato sono tutte difficili, soprattutto in trasferta. Da martedì la prepareremo come sempre e andremo là per vincere sicuramente. Lo spero, lo spero, anche perché mi manca un po', è un anno e mezzo che non riesco a far gol. In passato mi è capitato di farli e diciamo che sto attraversando questo periodo qui a livello realizzativo. Spero di riuscire a trovare il gol anch'io e l'importante è comunque che sfruttiamo le palle native e che la squadra faccia bene. No, no, noi l'avevamo preparata sia sul 3-5-2 loro sia sul 4-3-3. Comunque il fondo è una buona squadra, anche con Lecce mi ricordo che da loro abbiamo fatto un po' di fatica. Però niente, abbiamo corretto qualcosa e il secondo tempo è andato decisamente meglio.